e ci mancava dietro le quinte di questo ballo scatenato con vittoria mi fanno ho dovuto togliere la musica era bellissima ma il coppia di youtube è peggio di qualsiasi altra cosa lei versione marinaretta sempre stratosferica e tes potete dire quello che volete sa donna qui alla sole di 40 anni vedete le mie occhiaie quelle di chiara ferragni sono nulla assolutamente nulla e passiamo a valentina invece lei è sempre a chicago qua si sceglie le scarpe e fidanzato le sta dicendo muovete ecco qua chicago by day allora è una città che non conosco però stra piena di palazzoni un po' corporate così molti uffici di Lazio ciao